Buongiorno, buongiorno a tutti sono Anna Ranzani, benvenuta alla nuova lezione di ginnastica per il camonice più 9. Ci prepariamo come al solito con l'abbigliamento comodo, preparate il solito tappetino e per oggi, non so se avete letto, sul pro memoria una sedia, possibilmente senza braccioli, ok? Benissimo, intanto buon mercoledì, oggi è San Martino e niente, l'estate di San Martino, famosa poesia. Benissimo ragazzi, iniziamo il nostro riscaldamento, oggi faremo esercizi generici, tutto, braccia, gambe, glutei, ok? Quindi impegno e partecipazione, un bacio e un abbraccio a tutti quelli che parteciperanno e iniziamo, benissimo, iniziamo con la nostra marcia, ok? La nostra marcia, accompagniamo bene il movimento con le braccia, vi ricordo sempre l'importanza della respirazione, naso, bocca, non dimenticatela mai, anche se per caso mi dimentico io di dirvelo, voi ormai dovresti già averli in testa e saperlo, benissimo, ok? Adesso allargiamo un pochino, divarichiamo un pochino le gambe, continuiamo a muoverle e scaldiamo le nostre braccia, ok? Quindi spingiamo avanti, morbido, ok? Spingiamo bene avanti, andiamo avanti, butto fuori, inspiro, butto fuori, inspiro, ok? Adesso passiamo a sollevare le braccia in alto, stiamo sempre riscaldando, eh? Su bene, quindi movimento morbido e bello ampio, su, testa dritta che guarda avanti, mi raccomando la schiena, quando si fanno gli esercizi in piedi, sempre la contrazione degli addominali, ricordatevi, stringete la pancia, ok? Apro in fuori, poi li ripetiamo tutti e tre, benissimo, sempre le gambe che vanno, eh? Marcettina bella sostenuta, inspiro, ok? Adesso li facciamo con l'avanti, avanti, in alto, sempre con la marcia che va, eh? E in fuori, ok? Che ci scaldiamo bene bene, sciolgo adesso. Adesso facciamo il nostro step touch, quindi apre e chiudo, allargando bene le gambe e facciamo gli stessi tre movimenti con le braccia, ok? Quindi avanti, continuiamo avanti, eh? Poi vi do il cambio, avanti, in alto e fuori. Andiamo avanti a fare fuori, ok? Adesso che li abbiamo un pochino memorizzati e facciamo insieme. Avanti, alto, fuori, avanti, alto, fuori. Concentratevi, avanti, avanti, alto, fuori. Non dico più niente, seguite i movimenti. Su bene, avanti, alto, fuori, avanti, alto, fuori. Ok, sciogliamo le braccia, lasciamole andare, benissimo. Adesso facciamo il nostro passo che si chiama disegno la bubu step, eh? Avanti, avanti, dietro, dietro. Apro, apro, chiudo, chiudo. Ok? Poi aggiungiamo le braccia. Sperite bene. Torno bene indietro chiudendo, eh? Spingo avanti, eh? Apro, apro, chiudo, chiudo. Apro, apro, chiudo, chiudo. Teniamo. Ok. Adesso le braccia vanno in alto. Continuano ad andare in alto. e facciamo in fuori. Spingo in fuori. Benissimo. Ok. Marcettina. Mi avvicino a guardare chi ha scritto perché oggi sono un po' curiosa del solito. Ciao a tutti. Bene. Atmo le braccia in fuori. Ok. Raddrizziamo bene bene la schiena. Facciamo dei piccoli cerchi con tutto il braccio. stringiamo forte il pugno e giriamo bene indietro. Piccolo e veloce. Ve li conto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Su in alto. Tirate a marciare. Le gambe non si fermano mai. Allungo. Allungo il destro. Allungo il sinistro. Allungo il destro. Allungo il sinistro. Benissimo. Su bene. Ok. Sciolgo. Adesso facciamo degli slanci alternati con le braccia e solleviamo le gambe piegate. Faccio il passo. Slancio. Torno. Cambio con l'altra gamba. Slancio. Ok. Sempre dieci. Ci siamo? Respiro. Ok. Uno. Torno. Cambiate gamba e braccio. Due. Se guardate è opposto. Ok. Tre. Torno. Quattro. Torno. L'altro spinge indietro di braccio. Alto e l'altro dietro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Benissimo. Adesso solleviamo le gambe. Non fermate mai la marcia. Solleviamo le gambe sempre alternate come facevamo adesso. Ma gli slanci sono con tutte e due le braccia insieme. Quindi è questo. Spingo. Quando ritorno spingo indietro. Spingo in alto. Spingo indietro. Uno. Spingo indietro. Due. Spingo indietro. Tre. Ricordatevi la respirazione. Quattro. Spingo indietro. Cinque. Spingo dietro. Sei. Fra un po' tiro giù il muro. Sette. Otto. Nove. Sempre passettino. E dieci. L'ultima spinta indietro. Benissimo. Apre e chiudo. Dai. Hop. Hop. Adesso sempre prende più dentro le gambe. Spingo con tutte e due le braccia. Le porto bene avanti. E spingo. 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 Spingo bene i gomiti. Schiena dritta. Pancia indietro. Dai. Spingere. Forza. Spiro. Buttate fuori. Spingere. 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 Sp prepariamo la nostra sedia, vi ricordo se l'avete meglio senza braccioli, vi posizionate dietro alla sedia con le gambe divaricate più o meno alla stessa larghezza della sedia, raggiungiamo bene la schiena, saliamo bene sulle punte, contraiamo bene i glutei e scendiamo lentamente, anche il movimento su bene e giù lento, salgo lento, scendo lento, uno, scendo lento, due, scendo lento, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, sul decimo rimango su, tengo bene la contrazione, spingo bene le spalle indietro, tengo la posizione, tengo, tengo, spingete su, tengo e lascio giù, riappoggio, adesso sollevate una gamba sulla sedia, ok, questa mano in sicurezza, ok, l'altra l'altra l'appoggio bene sul ginocchio, devo salire sulla punta della gamba che a terra e riappoggiarla lentamente, ok, salgo e riappoggio, uno, su bene, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, cambiamo la gamba, per evitare di avere la mano sbagliata sulla sedia, andate dall'altra parte, ok, quindi sollevate la gamba, ok, quindi sollevate la gamba, che era questa, non mi si vede più, mi sta nel quadratore, ok, salgo e riappoggio, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, benissimo, ci mettiamo dietro alla sedia, senza staccare i piedi, faccio dei molleggi, aumentiamo un po' il ritmo per sciogliere le gambe, benissimo, ok, adesso nella stessa posizione di prima, adesso appoggio la gamba vicino alla sedia, ok, con la stessa mano, porto indietro l'altra, spingo bene avanti e allungo il polpaccio, la mano appoggio, ok, cambiamo con l'altra, potete anche stare dalla stessa parte, tanto stiamo allungando il polpaccio, spingo bene avanti, questo ginocchio spinge, dietro devo appoggiare il tallone, la mano tiene giù la sedia, ok, ci sediamo sulla nostra sedia, vi ricordo che lo schienale non si usa, la schiena la mantengo dritta, appoggio bene le braccia sotto per tenere le spalle indietro, vengo un pochino in avanti, sollevo la gamba e la apro in fuori, appoggiando solo la punta e ritorno, apro, appoggio e ritorno, ok, 1, 2, schiena la dritta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamo con l'altra, l'altra gamba, ok, su, apro e riporto, 1, aprite bene, 2, solo la punta appoggio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, benissimo, adesso è un po' più complicato, sollevo tutte e due le gambe leggermente, stendo avanti una, stendo avanti l'altra, riappoggio, se non riuscite tenete una gamba appoggiata, ok, faccio questo, ok, ci proviamo con tutte e due però, su, stendo una, stendo l'altra, appoggio, siamo a uno, buttate fuori l'aria, su, 2, appoggio, su, 3, su, usate anche le braccia, eh, 4, 5, su, 6, su, 7, su, 8, su, 9, l'ultimo, e 10, scendiamo le gambe, vi ricordo che se non riuscite a fare tutte le ripetizioni, li potete fermare tranquillamente, tanto lo fate lo stesso anche se non lo dico giusto, benissimo, allunghiamo un attimo le gambe, tiro bene il ginocchio, raddrizzo bene la schiena, stendo la gamba avanti, mi allungo, ok, braccio opposto, non riesce, tiene sotto, tiene il ginocchio, tiene la gamba, ok, l'importante è che tenete sulla gamba, riappoggio, tiro, schiena dritta, spalle indietro, e allungo, sostengo questa gamba con le mani, eh, ok, adesso facciamo il lavoro per la coscia, eh, ancora un pochino, solleviamo una gamba, vi ricordo la schiena, non serve sollevarla tanto, eh, anche poco poco vasta, importante che tenete la coscia bella contratta e piede a martello e facciamo dei piccoli cerchi con tutta la gamba, uno, due la schiena, eh, tre, quattro, cinque, cambiate rotazione, sei, sette, otto, nove e dieci, riappoggio, sull'altra, piede sempre a martello, facciamo delle circonduzioni con tutta la gamba, uno, due, tre, quattro, cinque, cambiate rotazione, sei, sette, otto, nove e dieci, scegliamo le gambe, benissimo, adesso andiamo un pochino più indietro, ci appoggiamo quasi allo schienare, ma la parte lombare, eh, sollevo tutte e due le gambe e faccio degli incroci, ok, senza bisogno proprio di sovrapporre i propri piedi, e morbidi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, giù, vedo tante scritte, ma non le vedo come al solito, ok, adesso le gambe le solleviamo tutte e due piegate, adesso venite un pochino più in avanti, mi sporgo un pochino in avanti, le braccia sempre in sicurezza per evitare di scivolare, quindi attaccatevi bene sotto, sollevo, apro, chiudo, appoggio, ok, vi ricordo la schiena, eh, ben dritti, su, apro, chiudo, appoggio, 1, su, apro, chiudo, appoggio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, e 10, benissimo, accavalliamo una gamba, se riesco il piede, se no la accavallo anche così, accavallo una gamba, ok, vengo un pochino in avanti, sollevo la punta del piede, si si vede, e li appoggio, ok, questa se riesco la schiaccio bene giù, questa mano schiaccia giù e questa solleva, così faccio peso sul polpaccio sotto, schiena dritta, mano questa bella appoggiata, 1, su bene, 2, 3, 4, 5, 6, la respirazione, 7, 8, 9, e 10, invertiamo la posizione delle gambe, sollevo l'altra, la mano sulla sedia, l'altra sul ginocchio, salgo bene e riappoggio, schiena dritta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, sciolgo le gambe, allunghiamo bene le braccia in alto, adesso facciamo una rotazione completa del busto, le braccia si muovono insieme, vuol dire che ruoto, muovendo il busto le braccia con la testa rimangono bloccate, non scendono da una parte e dall'altra, ruotate bene il busto, adesso vado giù, cerco di portare la testa fra le ginocchia e le braccia, passano sotto per tirare, un'ospiro, e butto fuori, appiattisco bene la colonna, ok, ci rialziamo, mettiamo via la sedia e prendiamo il tappetino, ok, ci mettiamo in quadrupedia, quattro zampe, preparate il tappetino, quattro zampe, o meglio, in appoggio sui gomiti, ok, benissimo, ci siamo, spero che vi siete preparati, stendo una gamba col piede a martello, sollevo, incrocio verso l'altra, riporto su, appoggio, sollevo, incrocio verso l'altra, porto su e appoggio, poi facciamo l'altra, siamo a due, incrocio, porto giù verso l'altra, tre, quattro, mi raccomando il piede a martello, cinque, verso l'altra, sei, sette, otto, nove, l'ultimo e dieci, cambiamo con l'altra gamba, altra gamba, sollevo, incrocio, riporto su, uno, sollevo, incrocio, riporto su, due, sollevo, incrocio, porto su, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, l'ultimo e incrocio e dieci, divarichiamo un pochino le gambe, ci dobbiamo sedere sui talloni e mi allungo con le braccia avanti, ok, benissimo, ci sdraiamo a pancia in su, ricordatevi chi ha problemi di cervicale, di mettere il cuscino, ok, benissimo, passiamo, stringo bene la pancia, appoggio bene le braccia, i fianchi, sollevo il bacino questa volta, sollevo il bacino, riporto senza appoggiare, devo contrarre bene i glutei, inspiro, porto giù, butto fuori, ok, uno, due, gambe leggermente divaricate, non tenete le unite, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, riappoggio, sollevo una gamba tesa in alto, col piede a martello, la rigidisco bene, spingo su col bacino, riappoggio, ok, sempre quella, spingo, butto fuori, inspiro, uno, due, tre, quattro, bella rigida la gamba, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, cambiamo con l'altra, bene, bella tesa, spingo, uno, due, tre, spingete in alto, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, sollevo, e tiro le ginocchia al petto, metto giù, riappate bene la schiena, mani sulle ginocchia, ruotiamo, e sciogliamo la zona lombare da una parte e dall'altra rotazione, ok, gambe piegate, facciamo gli addominali, ricordatevi che per fare gli addominali dovete toglierlo il cuscino, mani bene dietro la testa, faccio finta di guardare, faccio finta, faccio finta di portare il naso verso il soffitto, quindi collo bloccato, ok, spingo, su, butto fuori, e inspiro, mi raccomando il lavoro degli addominali non è del collo, quindi bloccate il collo bene tra le mani, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci salvo ancora, non tirate il collo, non tirate il collo, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, adesso facciamo lo stesso esercizio, inclinando il busto, quindi sollevo, inclino, ritorno, appoggio, sollevo, sempre guardando in alto, inclino, ritorno, appoggio, siamo a due, su, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette, otto, nove, e dieci, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, sollevo, inclino, appoggio, uno, due, tre, quattro, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e l'ultimo, dieci, allunghiamo le gambe, allardiamo le braccia dietro la testa, se li avete fatti tutti, siete stati bravissimi, qua andava riportato il cuscino dietro la testa, eh, per chi ha problemi di cervicale, bene, una gamba piegata, sollevo l'altra tese, la tiro, vi ricordo di non sollevare il bacino, bacino e giù, cambiamo gamba, sollevo l'altra, avvicino la piacchia, chi ha problemi di cervicale, questo no, eh, non lo fa, rimanete giù rilassati, chi non ha problemi, avvicina la pianta dei piedi, e solleva leggermente, guardando in alto, ok, collo bloccato, e rigidite bene il collo, e allargo, mi riappoggio, piego le gambe, mi giro sul fianco, ci giriamo sul fianco, ci mettiamo seduti, ok, posizione seduta, gamba tesa, appoggio bene il piede vicino al ginocchio, mi allungo avanti, se durante gli esercizi avete dubbi, domande, perplessità, scrivetelo pure, che alla fine della lezione vi rispondo, oppure vi rispondo alla lezione successiva, rispiegandovi l'esercizio, ok, vado in torsione, schiena bella dritta, mi giro da una parte, cambiamo gamba, appoggio bene il piede vicino al ginocchio, raddrizzo bene la punta, mi allungo avanti, vado bene in torsione, vado bene in torsione, la schiena rimane dritta, devo scendere lateralmente, ok, senza piegare il collo, la testa rimane dritta, appoggiata bene alle mani, i gomiti sono aperti, scendo lateralmente, clino il busto, da una parte e dall'altra, adesso porto la mano verso il piede opposto, l'altro braccio dietro la schiena, mi allungo, cambiamo dall'altra parte, braccio in alto, scendo piano piano in avanti, allungati, vietti finta che c'è una corda da prendere, mi raddrizzo piano piano, incrocio le gambe, raddrizzo sempre la schiena, faccio finta che c'è una corda che mi tira verso l'alto, poggio bene le mani, sciogliamo bene le spalle, circonduzione indietro, cambiando avanti, sollevo bene le spalle, inspiro, abbiniamo la respirazione, inspiro bene dal naso, non forzato, è morbido, inspiro, questi esercizi qua, vi ricordo che per chi sta tanto seduto, davanti al computer, o sulla scrivania, servono tantissimo per sciogliere la cervicale, andrebbero fatti tutti i giorni, più volte al giorno, raddrizzo bene la schiena, vado in torsione, giro la testa da una parte, e cambio dall'altra, anche qua morbido il movimento del collo, non discatto, porto l'orecchio verso la spalla, e cambio dall'altra parte, mani dietro la testa, raddrizzo bene la schiena, schiaccio bene il mento verso il petto, sollevo le gambe, le abbraccio, cerco di avvicinare la testa alla ginocchia, ci allunghiamo con le braccia in alto, ci facciamo un grosso applauso, ci vediamo mercoledì, sempre alle ore 10.30, un bacio e un abbraccio a tutti, alla prossima lezione, ciao ciao!